Il volume scritto a quattro mani che racchiude la storia della confraternita del suffragio si intitola 400 anni di fede carità e cultura ed in effetti da quel 18 aprile 1618 ad oggi questa è stata la missione dei confratelli 25 lo stato attuale tra cui anche una donna sia laici che religiosi 15 residenti a Fano gli altri come i cappellani militari sparsi in ogni angolo del mondo con fratelli che ad oggi portano avanti la scuola di musica il coro polifonico del suffragio la scuola di fotografia diretta da Stefano Bravucci e la spezzeria oltre che a sostenere e a promuovere le opere religiosi e culturali della comunità Sì ce li teniamo bene noi 400 anni quindi ecco 400 anni di vita di questo ente che ne ha passate tante pensate in quattro secoli che cosa può essere successo non solo a Fano ma in Italia noi tentiamo di essere aperti a tutti sia a livello civile quindi con la città che a livello religioso anche perché noi dipendiamo dall'ordinario diocesano quindi siamo eretti canonicamente e dobbiamo obbedienza al vescovo all'ordinario diocesano Le reliquie importanti sono custodite sotto le pietre della chiesa come una scheggia del crocifisso di Cristo e una croce celtica del 1200 su cui sono stati effettuati approfonditi studi e la ricca biblioteca che annovera oltre che all'atto costitutivo del 1618 della confraternita realizzato in pelle di pecora con decoro e lo stemma di chiesa della confraternita anche manoscritti di inestimabile valore alcuni anche antecedenti al 1500 che dire poi della spezieria visitabile ogni domenica mattina dopo le 11 dove lo speziale vi saprà consigliare le varie erbe officinali infusi ed oli esenziali che faranno alla vostra bisogna per sottolineare egregiamente questa ricorrenza sono in calendario per tutto l'anno in corso una serie di appuntamenti cadenzati in linea con lo statuto dei confratelli il primo appuntamento la presentazione venerdì 20 alle 21 del volume 400 anni di fede carità e cultura di Giorgio Falcioni editore che segnerà così anche l'inizio dei festeggiamenti per questa importante ricorrenza Giovanni Giovanni Pete Grine e Giulietta Giardini Grazie.